Con coach Andrea Gianni, intanto quanto è bello essere qui in Piazza Grande sotto la Ghirlandina? È bello che stiamo festeggiando ed è un momento speciale per tutto questo gruppo perché veramente è stata una stagione pazzesca e dopo tanti anni abbiamo riportato un trofeo europeo a Modena quindi siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. C'eri tu nel 2008 e ci sei tu nel 2023, questo è ancora più bello? Oddio, quello che si fa nel passato secondo me incide poco, incide il presente quindi abbiamo affrontato questa stagione veramente nel miglior modo possibile e abbiamo sovraperformato praticamente in tutto quindi la soddisfazione è a livello proprio prestazionale di quello che abbiamo fatto come squadra e di aver riportato un trofeo importante in questa piazza. Io sono veramente orgoglioso di tutto quello che si è fatto dalla società come ha saputo gestire un momento di crisi iniziale a quello che abbiamo fatto noi staff e giocatori all'interno di questa stagione a livello proprio agonistico.